Antonelli, il sindaco Alessandrini e il vice sindaco del Vecchio hanno detto che non ci sono i soldi per pagare le opere pubbliche, troppi cantieri aperti negli ultimi anni. L'ex maggioranza cosa risponde? Risponde che ciascuno di quelle opere, ciascuno di quei cantieri ha totale autonoma copertura finanziaria, che le difficoltà di liquidità che l'ente è costretto ad affrontare, e non da oggi, anche se Alessandrini e del Vecchio le affrontano solo oggi, ma noi nei cinque anni precedenti non ci siamo divertiti, derivano dal fatto che una serie di crediti che il Comune ha a disposizione non siamo riusciti ancora ad esigerli completamente, a cominciare dai 6 milioni che lo Stato deve rimborsare, sottolineo rimborsare, al Comune di Pescara per la gestione del Palazzo di Giustizia. Per non parlare dei 9 milioni di tares non incassati, perché il sistema produttivo della città finora non ha pagato, e faccio riferimento al 2013, non al 2014. Queste due cifre messe insieme fanno 15 milioni di euro, che potrebbero essere in cassa e che potrebbero essere messe a disposizione dell'ente per i pagamenti che deve affrontare, e quindi è del tutto evidente che i lavori pubblici che noi abbiamo cantierato avevano copertura finanziaria. Chi afferma il contrario dice una colossale bugia, di cui risponderà evidentemente, e voglio anche ricordare che una famiglia che dichiara di essere senza soldi, di avere difficoltà economiche, di sicuro non assume una colf, come l'ex vice sindaco d'Angelo, pagandolo il doppio dello stipendio dovuto. Quindi mi pare che ci sia una contraddizione in termini nelle cose che dicono il sindaco e il vice sindaco. Se davvero ci fosse questa difficoltà finanziaria non andrebbero a spendere i soldi, e così come stanno facendo allegramenti, a cominciare dallo staff del sindaco, che voglio ricordare ai pescaresi, costa 350 mila euro l'anno.